Un mio amico mi ha inviato questo messaggio tanto tempo fa e da allora mi è rimasto impresso e sono 50 punti ed è il consiglio di un'ottantenne e cerco di leggere questi 50 punti ogni giorno che stia passando una bella o brutta giornata specialmente in quelle brutte aiuta davvero ne leggerò un paio scegli attentamente il tuo compagno di vita da questa decisione dipenderà il 90% della tua felicità o miseria non privare mai qualcuno della speranza potrebbe essere tutto ciò che ha non sprecare mai un'occasione per dire a qualcuno che lo ami ricorda che l'80% del successo in qualsiasi lavoro si basa sulla tua capacità di trattare con le persone e infine non aspettarti che la vita sia giusta